4 cani, 4 pezzi di prosciutto L'ultimo che esce dal cerchio vince 1, 2, 3 Mary ferma Non è ancora partita la sfida 4, ma manca un cane Dove è andato Byron? Byron, andiamo a prenderlo Via! Dai fammi vincere a me No, vinco io Ma io me ne vado Ha vinto Shirley Congratulazioni per la vittoria della sfida Shirley Questo prosciuttino è per te e non per Mary Zampa man? Brava Te no, hai già mangiato